PETROLIO Se l'affare va bene, tiriamo su i soldi per sapare la cooperativa e allora vedi i sorrisi. Michael William Lombelli non si sbaglia mai. Quasi mai. Ogni socio deve versare 25.000 euro. E se il giacimento non c'è? Perdiamo tutto. Non ci sto. Io vado avanti da solo. Vuoi la guerra? Sono sempre stato sulle barricate. E si sono messi a litigare come due bambini. Almeno però tuo padre un sogno ce l'ha. Ti sei sempre l'ermanno, da qualunque parte sei. Ti ho portato dei disegni, li ho fatto io. Comunque noi eravamo diversi, eh. Oh, a me questi qua sono tutti un po' coglioni. Noi pensavamo la stessa cosa di voi. Il petrolio non arriva, sono rovinato. E vai da armando. Quello ormai mi odia. Quanto ti serve? Ti è venuta fuori l'anima del petroliere. Ti strega come la maga Circe. Ma metterò la merceda! Spanisce all'alba come i sogni. Io faccio il paraculo, così tu puoi continuare a fare il puro. Giuda! Io non ho mica capito. Allora, Ermanno, è petroliere o rivoluzionario? E adesso come va a fare?